la psicoterapia rende antifragili o meglio dovrebbe propendere per rendere antifragili dovrebbe essere il mandato della psicoterapia il concetto di antifragilità è un concetto recente introdotto da un autore che si chiama nassim nicolas taleb che ha studiato questo concetto per andare a spiegare l'opposto della fragilità che non è esclusivamente la robustezza ma è anche la capacità di trarre beneficio dagli stress a cui si è sottoposti è una cosa un po diversa dalla resilienza che provo a spiegarti con qualche esempio il concetto di fragilità è abbastanza semplice è un sistema che sottoposto a diverse fonti di stress ne esce danneggiato così uguale in termini di semplicità e il concetto di robustezza non è altro che la capacità del sistema di resistere a questi stress senza risultarne danneggiato a differenza quindi del sistema fragile il sistema robusto non riporta delle conseguenze sino ad un certo livello di stress il concetto di antifragilità è completamente diverso invece il concetto di antifragilità presenta quel sistema che non solo non riporta delle conseguenze nel momento in cui è sottoposto a stress bensì ne ottiene dei benefici e questo viene individuato dal autore data lab esattamente come l'antitesi cioè l'opposto della fragilità che non è da confondersi come appena detto con il concetto di robustezza prova a farti un esempio in modo tale che tutto il discorso risulti un pochino più chiaro avrai sicuramente visto ricandoti alle posto perché magari lo hai ricevuto il pacco contenente oggetti fragili con scritto proprio attenzione fragile maneggiare con cura bene è un esempio semplice che però rappresenta in maniera molto chiara il concetto di fragilità cioè un qualcosa che deve essere maneggiato con particolare attenzione per far sì che non riporti dei danni chiaro che l'antitesi quindi l'opposto di fragilità non è la robustezza tant'è che sui pacchi non scriviamo maneggiare con incuria o maltrattare tanto è robusto non scriviamo assolutamente niente questo perché perché non ci aspettiamo che il sistema robusto possa ottenere un vantaggio dalla sollecitazione proveniente da alcuni stress quindi ci guardiamo bene dal scrivere sui nostri pacchi maneggiare con incuria tanto il pacco è robusto il concetto di antifragilità invece è esattamente l'opposto è il sistema per cui in un qualche modo ci si aspetta che si riesca ad ottenere un vantaggio anche in condizioni di stress in condizioni stress che non sono state preventivate ma che vanno ad attivare tutta una serie di risorse appunto del sistema stesso che lo rendano antifragile quindi non solo capace eventualmente di resistere allo stress ma soprattutto di ottenerne un guadagno di ottenerne un vantaggio la psicoterapia dovrebbe propendere proprio a questo non solo lavorare sul concetto di robustezza cioè sul concetto di saper resistere e saper quindi affrontare le eventuali sfide che la vita ci mette davanti e che magari ci hanno portato ad una condizione di sofferenza e quindi anche ad una condizione di resistenza bensì nello sviluppare o meglio ancora nel rispolverare riscoprire ritrovare le risorse che il paziente ha nascosto dentro di sé così quasi convinto che non ne abbia quasi convinto di non averle in modo tale che riesca ad ottenerne un vantaggio magari non nella situazione specifica che poi può esitare appunto in una risoluzione del sintomo ma soprattutto nella consapevolezza che questo sintomo o questa difficoltà in un futuro sarà in grado di affrontarla in autonomia sarà in grado di andare ad attingere alla propria cassetta degli attrezzi e quindi in autonomia affrontare la difficoltà che la vita gli pone davanti questo concetto ho già provato a spiegarlo in diversi video ad esempio nel momento in cui mi sono trovato a parlare di quando interrompere la terapia specificando bene che la terapia non deve essere interrotta nel momento in cui il paziente dice ok adesso sto bene ok adesso non ho più il sintomo bensì nel momento in cui ha nella propria cassetta degli attrezzi metaforicamente parlando tutti gli strumenti per poter sistemare da solo il problema o ancora nel momento in cui parlavo della terapia di coppia e ho fatto riferimento a molte coppie che dicono in procinto di chiusura dottore adesso stiamo bene ma magari se facciamo un controllino ogni tanto magari una volta ogni due mesi perché sa qualche paura di ricascarci ce l'abbiamo e io insomma un totale disaccordo con questo facevo vedere come appunto il tema della cassetta degli attrezzi il tema delle risorse della consapevolezza di poter affrontare le difficoltà era ormai presente nella testa della persona quindi questi sono tutti i movimenti antifragili movimenti che non solo permettono di resistere ad una condizione ad una situazione ad uno stress bensì aiutano anche il sistema a poterne ottenere un vantaggio cioè ad uscirne arricchito dalla condizione di fatica e secondo me nonostante non sia un concetto legato alla psicoterapia e alla psicologia il concetto di antifragilità è un concetto estremamente importante può essere una risorsa soprattutto perché spiega con estrema chiarezza quello che io e molti miei colleghi e molti pazienti con i quali lavoriamo ci troviamo ad affrontare quotidianamente quindi la psicoterapia deve propendere soprattutto questo quindi uscire dal concetto di fragilità chi chiede aiuto non è fragile anzi esattamente il contrario si muove già da solo verso un tentativo di antifragilità passare attraverso il concetto di robustezza cioè l'idea di poter resistere poter far fronte a un problema ma ancor di più trasformarsi in antifragile cioè diventare esso stesso un sistema che si avvantaggia poiché è in grado di far fronte alle difficoltà a fronte dello stress che vive in modo tale da uscirne arricchito